Nuovi iPhone 13, Mini, Pro, Pro Max, iPad di nona generazione e tutto un nuovo iPad mini. Questi sono i prodotti che sono stati presentati da Apple da pochissimo e adesso andiamo a vederli insieme. Iniziamo dall'iPad di base di nona generazione che, nonostante non sia il tablet Apple più esclusivo con tutte le ultime funzionalità, è comunque secondo me quello più famoso, quello più importante perché ha un prezzo di partenza molto basso e che sarà sicuramente molto interessante per tantissimi studenti e per chi si approccia per la prima volta a un dispositivo del genere, quindi facente parte della categoria dei tablet. Dal punto di vista estetico, anche dal punto di vista hardware, non ci sono delle particolari differenze rispetto alla precedente generazione. È cambiato sì internamente per quanto riguarda tutta la parte del SoC, perché adesso c'è il SoC A13 Bionic che è molto più potente rispetto a quello precedente, però il tablet comunque rimane identico con lo stesso supporto alla Apple Pencil di prima generazione, lo stesso supporto a tutte le tastiere esterne, alle custodie, a tutte le cover originali Apple, però c'è una novità in un reparto che non mi sarei aspettato ed è quello delle fotocamere, perché è stata portata una funzionalità molto utile per quanto riguarda questo dispositivo, proprio per il suo utilizzo, per ciò per cui è pensato, perché sulla parte frontale è stata integrata una nuova fotocamera da 12 megapixel con lente ultrawide. Questa consente di avere una visione maggiore di chi sta utilizzando il tablet e soprattutto c'è anche la funzionalità di center stage, ovvero la possibilità tramite software di portare in primo piano e al centro dell'inquadratura l'utente che sta parlando, che viene visto da questa fotocamera, in modo tale da non dover per forza stare lì a muovere il tablet quando ci spostiamo all'interno della scena, ma rimanere comunque sempre centrati. È una funzione sicuramente molto utile, soprattutto in questo periodo dove si fanno tantissime videochiamate. Questo comunque era tutto, tutte le novità sull'iPad di nona generazione, come vi dicevo non ci sono stati degli importanti cambiamenti rispetto a quello precedente, è più veloce, c'è questa funzionalità tramite la nuova fotocamera, però diciamo che rimane lo stesso iPad. La stessa cosa non si può dire per quanto riguarda l'iPad mini, che aveva necessità di essere aggiornato da ormai un po' di tempo, da un paio di anni, e così è stato. Abbiamo un iPad mini totalmente ridisegnato sia nelle parti interne, nel display e in tutta la scocca. Diciamo che assomiglia più che altro a un iPad Pro in miniatura, un iPad Air in miniatura, difatti ha uno schermo da 8 pollici punto 3, che è molto piccolino, tendenzialmente potremmo anche utilizzarlo con una sola mano. Ovviamente non abbiamo la stessa comodità di quando utilizziamo un iPhone, però rispetto a un iPad Pro da 11 pollici o anche un iPad Air, sicuramente è un dispositivo un po' più mini. Quindi, come vi dicevo, abbiamo un display totalmente nuovo, un display liquid retina, quindi che si va a curvare negli angoli e soprattutto ci sono delle cornici molto fini. Nonostante il design assomiglia a quello di un iPad Pro, però qui non è stata portata la fotocamera e tutta la sensoristica per il riconoscimento Face ID del soggetto che utilizza il tablet, e quindi per sbloccarlo semplicemente con il volto. Al posto di questa, al posto del Face ID, è stato portato il Touch ID all'interno del tasto Power, come abbiamo ad esempio anche sull'iPad Air. Diciamo che Apple sembra che stia cercando di creare un po' di differenza anche all'interno della categoria dei tablet, quindi con l'iPad mini e l'iPad Air che utilizzano il Touch ID, mentre l'iPad Pro che ha una tecnologia come il Face ID che lo fa risultare un po' più futuristico, un po' più avanzato rispetto ai modelli un po' più economici. Comunque, questo iPad mini è totalmente nuovo anche per quanto riguarda la penna che si può utilizzare al di sopra, perché finalmente viene supportata la Apple Pencil di seconda generazione. Viene supportata non solo nella scrittura sullo schermo, anche per muoverci nell'interfaccia, ma si può anche collegare, come abbiamo anche sull'iPad Air e l'iPad Pro, sulla parte laterale tramite dei magneti e quindi ricaricarla. Quindi tante novità dal punto di vista estetico del display, ma anche all'interno, perché qui abbiamo un SOC molto più rapido rispetto a quello precedente. In realtà, durante la presentazione Apple non ci ha detto fin da subito quale SOC è stato utilizzato, questo perché voleva aspettare all'iPhone 13 per presentarci il SOC A15. Comunque, poi parliamo anche dell'iPhone, però all'interno di questo iPad mini abbiamo il nuovo SOC, che è un SOC realizzato da Apple con 6 core, molto più rapido rispetto all'A14, e che soprattutto consente di utilizzare la tecnologia per la connessione alle reti 5G anche sull'iPad mini, il che non era possibile con il precedente modello. Tra le altre cose, vediamo anche delle nuove fotocamere. Ovviamente non è il punto di forza di un tablet, però comunque qui abbiamo una fotocamera da 12 megapixel sulla parte posteriore e la stessa fotocamera da 12 megapixel con lente ultra wide sulla parte anteriore, quindi sempre con la funzionalità di riporre il soggetto di scatto al centro della scena, esattamente come abbiamo sull'iPad Pro, l'iPad Air e adesso sui nuovi iPad di nuova generazione. Una funzionalità che, come vi dicevo, tornerà tantissimo utile in questo periodo. Una cosa che sarà gradita da tantissimi è che sull'iPad mini è stata integrata la porta Type-C per la ricarica e anche per il trasferimento di dati e anche ovviamente per il collegamento di tantissimi accessori. Sull'iPad base di nuova generazione invece rimane la porta Lightning, perché comunque è un dispositivo di fascia un po' più bassa, che supporta invece la Apple Pencil di prima generazione, che come sappiamo si ricarica tramite il connettore Lightning e quindi sarebbe stato un po' strano trovare un connettore differente. Mentre sono molto contento che su questo iPad mini sia stata integrata la Type-C, il che lo rende un dispositivo dedicato anche un po' a quelle persone che fanno dei lavori un po' più professionali e lo avvicina di più verso l'iPad Air o anche l'iPad Pro, che sono dei dispositivi un po' più legati al mondo del lavoro. Per concludere con la categoria dei tablet vediamo i prezzi di vendita, perché l'iPad base di nuova generazione verrà venduto con un prezzo di listino che parte da 389€. Questo però si riferisce al modello da 64GB di memoria interna, che è anche il taglio base per i nuovi iPad di nuova generazione. Per quanto riguarda invece l'iPad mini, lui partirà da 559€, sempre con un taglio di memoria che parte da 64GB. Entrambi, questi due iPad, sono disponibili anche con una loro variante che ha la possibilità di connettersi alle reti dati, però l'iPad mini si può connettere anche alle reti 5G. Concluso con questi iPad, passiamo all'Apple Watch. E qui ci sono state delle novità un po' strane, perché eravamo praticamente tutti sicuri e certi del fatto che l'Apple Watch avrebbe visto un design totalmente rinnovato rispetto a quelli che abbiamo attuali, con dei bordi piatti, delle linee un po' più squadrate, che ricordano quelle di un iPhone 12, però così non è stato. L'Apple Watch di settima generazione risulta molto simile per quanto riguarda le linee della cassa rispetto al 6, al 4 o anche a quello di prima generazione. Ciò che cambia totalmente su questo nuovo Apple Watch di settima generazione è il display, ma anche il vetro posto al di sopra. Il display ora è più grande rispetto a quelli precedenti, rispetto a quello di sesta generazione, pur mantenendo delle dimensioni comunque compatte, non risulta più grande come dispositivo. Questo perché sono state ridotte le cornici. Quindi abbiamo adesso dei display più grandi, che passano da 40 a 41 mm e da 44 a 45 mm. Questo però mantenendo sempre anche la compatibilità con i vecchi cinturini, quelli che erano compatibili anche con le Apple Watch di sesta e di quinta generazione, il che è una cosa positiva ovviamente perché sono dei cinturini universali che magari si acquistano con una generazione e si vogliono continuare a utilizzare con quella successiva. È stato migliorato anche il cristallo posto a protezione di questo pannello, che risulta più resistente rispetto a quello di sesta generazione, ma su questa settima generazione c'è anche una nuova certificazione per la resistenza alla polvere e si tratta di una IP6X. Rimane invariata naturalmente la resistenza all'acqua e agli schizzi, è un dispositivo che possiamo immergere, che possiamo utilizzare anche per il tracking del nuoto, quindi molto resistente all'acqua. È stata migliorata anche tutta la parte relativa alla ricarica. Cambia il cavo perché ora il cavo che viene venduto in confezione non utilizza più un attacco con USB di tipo A, ma utilizza invece una tipo C, quindi vediamo come Apple si stia spostando sempre di più verso questa tecnologia Type-C. Migliorata la ricarica non solo ovviamente in questo cavo, che risulta avere un attacco differente, ma anche nella velocità, perché ora possiamo ricaricare l'Apple Watch di settima generazione un po' più rapidamente rispetto ai precedenti modelli. Quest'anno l'Apple Watch di settima generazione verrà venduto in diverse varianti, sia per materiali ma anche per le colorazioni. Una novità interessante per quanto riguarda le colorazioni è il modello verde. Questo è un verde scuro, non è un verde molto acceso, sicuramente molto più sober rispetto al rosso o al blu sgargiante che avevamo sulla sesta generazione, ma che comunque rimangono presenti anche su questa settima. Per il resto non ci sono stati altri annunci per quanto riguarda questo nuovo Apple Watch. Apple durante la presentazione non ha parlato di nuovi SOC, di nuove tecnologie all'interno. Per quanto riguarda i prezzi, attualmente sappiamo quelli americani, che partono di listino da 399€, però posso presupporre che sul mercato italiano venga venduto a un prezzo superiore ai 400€. L'arrivo sul mercato invece è previsto per l'autunno, senza una data ben precisa. Veniamo poi ai dispositivi più importanti di questa serata, iPhone 13, Mini, Pro e Pro Max. Come sempre c'è una bella divisione, una bella differenza tra i modelli base e i Pro. Partiamo con i modelli base, che risultano in realtà molto simili agli iPhone 12 dello scorso anno. Per quanto riguarda l'estetica non cambia tantissimo. Sulla parte posteriore abbiamo ad esempio due fotocamere che non sono più posizionate in verticale, ma sono in obliquo. Questa disposizione non è fatta esclusivamente per un fattore estetico, ma perché è stata modificata la fotocamera ultrawide, ma anche quella principale. L'ultrawide adesso risulta essere più luminosa rispetto a quella precedente, e quindi sarà in grado di scattare delle foto migliori, specialmente quando abbiamo poca luce. Sulla fotocamera standard, quella tradizionale, invece adesso abbiamo una stabilizzazione sul sensore, esattamente come avevamo sull'iPhone 12 Pro Max. Quindi questa è una stabilizzazione che occupa un po' più di spazio ed è stato necessario riporre le fotocamere con questa disposizione. Per il resto abbiamo delle novità sulla parte frontale, perché adesso il notch risulta un po' più piccolo, perché qui tutta la sensoristica relativa al Face ID è stata migliorata, è stata ridotta nelle dimensioni, e adesso abbiamo un notch che occupa meno spazio sul nostro display. Ci sono delle novità anche per quanto riguarda il pannello, utilizzato su questi nuovi iPhone 13 mini e 13 base. Per questo Super Retina XDR, questo è il nome del pannello, adesso è in grado di raggiungere una luminosità di picco di 800 nits e di 1200 quando si guardano dei contenuti in HDR, che come sappiamo sono quelli che riescono a sfruttare maggiormente la luminosità di un display, di un pannello del genere. Rimane sempre un pannello OLED, però non sono state portate alcune novità che tutti quanti ci aspettavamo, come ad esempio l'Always-On Display. Una novità che, come vedremo un po' più avanti, non sarà presente neanche sui modelli di iPhone 13 Pro. Continuando con le novità di questo 13, abbiamo un nuovo SoC all'interno, si tratta dell'Apple A15 Bionic, quindi lo stesso SoC che abbiamo visto anche sull'iPad mini, e questo naturalmente è più rapido rispetto alla 14, e adesso c'è anche una GPU più prestante per giocare a dei titoli un po' più impegnativi. Un'altra cosa differente rispetto all'iPhone 12 è la batteria. Apple durante la presentazione non ci ha fornito dei numeri ben precisi, ma ci ha detto che c'è una batteria un po' più grande sull'iPhone 13 mini e anche sull'iPhone 13 base. L'unica cosa che ci dice è che sul 13 mini ci possiamo aspettare un'ora e mezza in più rispetto al 12 mini, mentre sul 13 base avremo due ore e mezza rispetto al 12 base. Poi naturalmente dovremo vedere quanto questo si traduce nell'utilizzo reale, nell'utilizzo quotidiano, però sicuramente avere una batteria un po' più grande aiuterà sul fronte dell'autonomia. Per quanto riguarda i prezzi, sono anche questi molto simili rispetto al passato, però c'è una importante novità, ed è relativa al taglio base di questi prodotti, perché verranno venduti di partenza con un taglio di memoria di 128 GB, sia per l'iPhone 13 mini che per l'iPhone 13 base. Quindi eliminiamo totalmente i 64 GB, era un taglio un po' obsoleto che non consentiva di salvare tantissime foto e video. Un'altra novità, sempre per quanto riguarda i video, è che adesso sarà disponibile una nuova modalità Cinematic Mode. È una modalità un po' particolare, che dovremmo vedere realmente sul campo come si comporta, che video si possono realizzare, ma da quel che si è capito durante la presentazione, è una modalità di far video che consente di avere una mappatura della scena sulla profondità di campo, quindi andare a gestire meglio tutta la sfocatura, muoversi da un soggetto a un altro, farlo in maniera automatica, farlo anche in manuale, semplicemente tappando sullo schermo. Però durante la presentazione Apple ci ha mostrato un video di test, naturalmente il migliore che l'azienda è riuscita a creare, e devo dire che sembra interessante, naturalmente dobbiamo vedere come realmente si convertirà tutto questo sul campo, che video si potranno fare, se magari è una funzionalità un po' gimmick, carina, ma potrebbe essere anche inutile. Comunque vedremo un po' più avanti. Tornando un po' indietro, vi devo dire i prezzi di listino, perché l'iPhone 13 mini partirà con quel taglio da 128 GB, da 839 euro, mentre il 13 base partirà da 939 euro, e saranno ordinabili dalla prossima settimana. Per quanto riguarda invece i dispositivi Pro e Pro Max, qui superiamo tranquillamente i 1000 euro. E qui ci sono delle importanti novità, specialmente per quanto riguarda tutta la parte della fotocamera, perché adesso ci sono tre sensori che sono stati totalmente rinnovati rispetto al passato. Partiamo dalla principale, è che si tratta sempre di una 12 megapixel con apertura f1.5, mentre la telefoto adesso ha una lunghezza focale di 77 mm, quindi uno zoom ottico 3x, e l'ultrawide, quella ultra grandangolare, adesso ha un'apertura di f1.8, quindi risulta più luminosa rispetto al passato, e quindi una novità che consentirà di fare delle foto, ma anche di video migliori, che risultavano un po' rumorosi sull'iPhone 12. Passando al display, finalmente arrivano i 120 Hz. È una cosa che stavamo aspettando un po' tutti, la stavamo aspettando in realtà dall'iPhone 12, ma Apple l'ha voluta integrare in maniera un po' particolare. Questo perché questi 120 Hz non sono fissi, non sono stabili sull'iPhone 13, ma sono variabili. È una gestione automatica della frequenza di aggiornamento dello schermo, che permette di scendere fino a 10 Hz quando ci sono delle scene un po' statiche, quando ad esempio non viene mostrato niente in movimento sul nostro schermo, ma questa frequenza viene aumentata quando facciamo uno scroll di una pagina fino ai 120 Hz, che consente quindi di avere una fluidità maggiore di tutti i movimenti che facciamo sul nostro iPhone, e che aiutano ad avere una rappresentazione un po' più fluida di tutte le animazioni. Per quanto riguarda invece l'always on display, come vi dicevo, non si è parlato durante la presentazione, questa è una cosa che io sinceramente stavo un po' aspettando e pensavo che con questa tecnologia che consente di scendere a 10 Hz così tanto bassi, si sarebbe potuto integrare anche un always on display, esattamente come abbiamo sull'Apple Watch con il nuovo pannello LTPO, e devo dire che questa cosa mi ha lasciato un po' perplesso. Il resto delle novità le abbiamo un po' già descritte con l'iPhone 13 perché abbiamo il nuovo SoC Apple A15 Bionic che risulta naturalmente più prestante e più veloce rispetto al passato, però non ci sono state tante altre novità. Anche qui aumenta un pochettino la batteria sul 13 Pro e sul 13 Pro Max e possiamo aspettarci sempre un'ora e mezza, due ore e mezza in più sull'autonomia rispetto agli iPhone 12. I prezzi di listino partono in Italia con il taglio da 128 giga per il modello di 13 Pro da 1189 euro mentre il 13 Pro Max parte da 1289 euro. Un'altra novità per questi modelli Pro è che ci sarà un taglio di memoria di un terabyte, sicuramente un qualcosa di dedicato a chi fa un utilizzo davvero smodato del proprio dispositivo per chi fa tantissime foto, per chi fa tantissimi video con questa modalità cinematic, ma che sono giustificati da una importante novità che viene portata sui nuovi iPhone 13 Pro. Il fatto che si può adesso filmare con un codec ProRes, un formato Apple proprietario che consente di avere una qualità maggiore dell'immagine senza compressione che risulta anche più semplice quando viene elaborata ad esempio da un programma come Final Cut. Quindi sicuramente saranno dei formati che verranno utilizzati da tantissimi content creator che utilizzano l'iPhone per degli utilizzi professionali e per loro magari un taglio di memoria di un terabyte ci sta è un qualcosa di comodo. Comunque questo era tutto per la presentazione di oggi del 14 settembre di Apple ci sono state delle minori novità per quanto riguarda gli iPhone però devo dire che mi hanno soddisfatto quelle che abbiamo visto ad esempio sull'Apple Watch di settima generazione con questo nuovo display così tanto immersivo e anche soprattutto per l'iPad mini che adesso è completamente nuovo. Comunque fateci sapere qua sotto cosa ne pensate di questi nuovi dispositivi e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!